Ciao, mi trovo qui all'attore di Belemma a Lisbona, che è il punto da cui sono sempre partiti gli esploratori. Gli esploratori che si avventuravano verso mete sconosciute. Ebbene, quante volte ti è capitato nella tua vita di trovarti ad un punto di svolta? Un punto di svolta molto importante, dove magari sentivi che avresti dovuto abbandonare una parte del vecchio te per andare verso lì di sconosciuti, verso luoghi sconosciuti, verso qualcosa che non conoscevi. Ebbene, hai sempre una possibilità di scegliere. Da quella parte c'è ciò che non conosci. C'è il mare aperto, c'è l'oceano. Da quella parte invece c'è ciò che tu conosci, ciò a cui sei abituato e che ti ha portato a vivere la vita che hai vissuto sino ad adesso. Ebbene, la scelta è sempre tua. Certo, ci sono tante situazioni nella tua vita che ti fanno paura. Ma tu sai bene che se non ti permetti di scegliere e di seguire ciò che il tuo cuore ti sta dicendo, quello che creerai è una vita sempre uguale. Ed è una vita che magari non ti permette di essere felice e di realizzare i tuoi sogni. Certo ti farà stare al sicuro, ma sei sicuro che andando avanti col tempo continuerai a vedere quella vita, a vivere quella vita e un giorno magari ti renderai conto che avresti dovuto prendere la strada del mare aperto e permetterti di andare incontro a ciò che non conosci. Bene, con questo ti voglio salutare e augurare una bellissima giornata e ti lascio proprio con questo pensiero. Pensa tutte le volte che hai avuto paura e che ti sei limitato e pensa a qual è la tua situazione ora e pensa a come potresti andare oltre quella paura perché magari proprio oggi ti potresti dare una grande possibilità. Un abbraccio forte. A presto. A presto.